Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV l'informazione locale Via Papiria, viabilità attuale resta in vigore fino al 24 novembre Antiquariato si torna ai due giorni e al Pincio già da questo fine settimana Un'opera d'arte per ringraziare l'arma dei carabinieri Domenica al Palazzetto dello Sport di Fanno scende in campo l'inclusione con il baskin Scolaresca in visita a Fanno TV, 50 giornalisti in erba negli studi del telegiornale Buonasera e benvenuti a Occhio la Notizia, il Tg di Fanno TV in onda tutte le sere alle 20 e 30 La cronaca si parla di droga, contrasto alla droga e andiamo a Senigallia Perché tre spacciatori di origine pakistana sono stati arrestati dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Senigallia Per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Le manette sono scattate al termine di un'attività di monitoraggio delle principali piazze di smercio di droga cittadine Partite dai giardini della Rocca Roveresca dove avvenivano gli scambi e conclusasi in zona Ponte Rosso Dove i tre avevano la loro base operativa Le segnalazioni dei residenti e dei passanti avevano messo da tempo gli agenti sulla pista giusta Che ha portato all'arresto di tre giovani tra i 20 e i 30 anni pakistani Due dei quali richiedenti asilo Due di loro sono stati fermati appena usciti da un'abitazione e trovati in possesso di Ashish Mentre il terzo di 26 anni è stato trovato all'interno dell'appartamento Con decine di involucri contenenti eroina pura e alcune centinaia di euro Stamattina l'udienza di convalida al Tribunale di Ancona Arresti domiciliari quindi per i tre in attesa delle procedure per l'espulsione E parliamo adesso di, lo avete sentito nei titoli, di una manifestazione sempre molto piaciuta E sempre tanto gradita non solo ai fanesi ma a tutti coloro che facevano visita alla città Partiamo da qui per riparlare nuovamente del mercato dell'antiquariato Che torna un po' all'antico Due giorni e soprattutto nel luogo che è sempre stato il suo fulcro Sentiamo Sì, novità perché ormai da qualche giorno che abbiamo intavolato con alcuni tecnici E con chi partecipa proprio al mercato dell'antiquariato, con gli operatori Abbiamo fatto dei tavoli proprio per capire come migliorare questo mercato dell'antiquariato Partiremo proprio da questo weekend intanto nel riportarlo al Pincio Su area naturale, è un luogo molto affine per un prodotto come l'antiquariato In questo bellissimo Pincio rinnovato, quindi per due giorni, quindi ritorniamo al sabato e la domenica Il mercato dell'antiquariato vivrà da questo weekend al Pincio Da qui poi lavoreremo per riportarlo anche agli antichi fasti dove anche gli espositori erano maggiori Dove anche i prodotti avevano anche una maggiore qualità Ci stiamo lavorando insieme a dei professionisti, insieme a delle aziende che fanno Diciamo di questo lavoro un po' in tutta Italia, la loro mansione E quindi l'idea è quella ovviamente di far crescere questo prodotto Che dà un qualcosa in più alla città È sempre stato molto affine e può essere anche un'occasione Oltre che un'occasione commerciale, può essere anche un'ottima occasione turistica per la nostra città È comunque un volano anche per attirare persone da fuori che magari nella giornata si sposta Sì, l'ho detto prima, noi abbiamo dei progetti come il mercato cittadino Lo stesso mercato dell'antiquariato che hanno una certa costanza, una certa progettazione nella città Quindi arriva una comunicazione esterna che c'è Ci sono progetti come questi, molto belli nella città da visitare Cose che si possono acquistare, quindi sia capi d'abbigliamento In questo caso invece merceologia antiquaria e quindi prodotti di altro tipo E questo è veramente molto interessante per le persone che si ritrovano a visitare una città Che tra la visita di un monumento e l'altro oppure l'ingresso ad un museo Si trovano a camminare all'interno di un mercato che aglieta la passeggiata Che rende la città bella, viva Quindi per noi sono progetti importanti che cercheremo di qualificare al meglio E lo avete sentito nei titoli Questa mattina qui a Fano TV abbiamo subito una gioiosa invasione Ben 50 scolari della scuola Filippo Montesi di Sant'Orso sono venuti a farci visita E guardate che cosa è successo Mattinata speciale per 50 bambini della scuola Filippo Montesi di Fano Questa mattina anziché varcare i cancelli della scuola Alle 9 hanno varcato le porte degli studi di Fano TV assieme ai loro docenti Con sguardi rapiti, carpendo ogni dettaglio in ogni stanza che passavano Man mano sono arrivati fin dentro il grande studio che ospita il Tg Occhio alla notizia e la rassegna stampa Occhio ai giornali Ad aspettarli c'era il direttore Marco Ferri Che dopo una breve presentazione degli altri componenti dello staff Giornalisti, operatori video e regia E di come si crea un telegiornale Si è sottoposto al fuoco di fila delle domande Che i ragazzi, i quali a loro volta secondo un progetto scolastico Poi faranno un reportage per il loro notiziario scolastico È nata da un percorso, da un progetto che faremo a scuola Una costruzione vera e propria di un Tg, Tg School 24 Che i ragazzi stanno preparando sia per quanto riguarda la stesura dei testi Che poi andranno a leggere Che sia dal punto di vista tecnico e tecnologico Quindi costruiranno proprio delle edizioni Dovranno essere tre edizioni nel corso dell'anno Ecco loro come hanno preso questa visita qui a Fano TV? C'era molto interesse C'era molto interesse e molto entusiasmo come avete visto Perché comunque hanno la possibilità di vedere dal vero Anzi vi ringraziamo molto per la disponibilità Perché non è così scontato E quindi loro adesso stanno girando qui nello studio In regia, in redazione A vedere i vari momenti di una costruzione di un Tg Curiosità, aneddoti, i perché e i per come fare il mestiere del giornalista Ma come sempre anche le telecamere e il lavoro dell'operatore Hanno catturato la curiosità dei piccoli giornalisti in erba Allora Luca, che cosa ti è piaciuto di questa visita a Fano TV? Quasi tutto Perché l'ufficio è molto bello e anche il lavoro Ti piace il lavoro del giornalista? Abbastanza Qual è la cosa che ti piace di più? Le telecamere, la scrivania? Qual è la cosa che ti piace? Le telecamere Le telecamere Vuoi fare l'operatore? Vuoi prendere il posto di Filippo Pucci? Ho capito Tu invece cosa vorresti fare se fossi una giornalista? Il lavoro di Marco Ferri Ecco Vorrei leggere Ti piace stare sulla scrivania? Sì Senti, ma Fano TV ti piace, la guardi? Sì, la guardo tutte le sere Tutte le sere? Sì Anche stasera immagino Ovviamente Ma qual è l'aspetto che ti piace di più? Lo studio Che poi sotto la guida del direttore, del regista Riccardo Sora Assieme all'operatore Giacomo Vitali Per alcuni di loro si è concretizzata l'ebrezza di calcare i ruoli di conduttore Operatore e regista in una simulazione registrata di un'edizione speciale di Occhio alla Notizia Buonasera a tutti Questa è la nuova edizione di questo telegiornale Grazie di aver ascoltato questo telegiornale Per oggi è tutto e buonasera a tutti Speriamo che magari tra coloro che sono venuti qui non scocchi la scintilla del sacro fuoco del giornalismo Benissimo, allora andiamo adesso a Urbino dove si è tenuta nella cornice accademica dell'Aula Magna Dell'Istituto di Belle Arti di Urbino e poi presso il Comando Compagnia Carabinieri La cerimonia di consegna da parte dell'ente accademico dell'Opera d'Arte L'incidenza delle trasparenze realizzata dal giovane artista di origini abruzzesi Aurora Merendi Accademista del terzo anno e vincitrice del concorso bandito per la realizzazione dell'opera La scultura donata vuole simboleggiare la commossa gratitudine di tutta la comunità urbinate Verso l'opera meritoria dei carabinieri della locale compagnia e del nucleo tutela patrimonio culturale Che ha operato il recupero di tre capolavori La muta di Raffaello Sanzio, la flagellazione e la madonna di Senigallia di Piero della Francesca Trafugati dal Palazzo Ducale di Urbino tra il 5 e il 6 febbraio del 1975 Recuperati a distanza di poco più di un anno dopo serrate indagini Il 23 marzo 1976 La cerimonia molto partecipata ha visto la partecipazione di varie autorità Tra cui il Presidente del Tribunale di Urbino Massimo Di Patria E il Generale di Divisione Adolfo Fischione, Vice Comandante del Comando Interregionale Carabinieri Podgora La cerimonia si è spostata poi presso la Compagnia di Urbino Dove si è proceduto alla scopertura ed inaugurazione dell'opera d'arte Collocata nel giardino interno della caserma Bene, ed ora viabilità Il Comune di Fano informa che le modifiche alla circolazione in tersezione tra Via Mattei e Via Papiria In vigore dalla fine del mese di settembre si protrarranno fino al 24 novembre prossimo Terminata questa prima fase di cantierizzazione Il Comune che ha costretto la ditta pavimentale a ricorrere all'intervento di imprese esterne A causa di interferenze emerse in corso di esecuzione Prenderanno il Via in sequenza altre due fasi con altrettante modifiche di viabilità Che verranno successivamente segnalate nel dettaglio necessario per la realizzazione della nuova rotatoria Una volta completata l'opera sostituirà il precedente incrocio a T Renderà più sicura e scolerevole la circolazione per ridurre i disagi Si invitano gli utenti a seguire le indicazioni presenti sul posto E a prestare attenzione alle informazioni che verranno diffuse tramite gli organi di informazioni E relative alle prossime modifiche alla viabilità E beh, quell'incrocio, se avete presente di cosa stiamo parlando È stato sempre teatro di incidenti, alle volte molto gravi Quindi speriamo, dopo qualche disagio, di non doverne registrarne più Allora, andiamo adesso per lo sport, ma uno sport particolare Siamo stati stamattina al Palazzetto Salvatore Allende di Fano Ad assistere a un allenamento della squadra fanese di Baskin Che si cimenterà con un torneo che andrà in onda Insomma, andrà, si terrà proprio al Palazzetto Vediamo di che cosa si tratta Quando si parla di inclusione, quando i temi della diversità e della disabilità entrano in campo nella vita Allora è il momento di scendere su un altro campo Quello sportivo, dove grazie alle regole, al gioco, si è tutti alla pari E dove ognuno ha un ruolo ben preciso e si sente parte di un collettivo Che grazie alla sua forza fa superare ostacoli e deficit che sembravano prima montagne invalicabili E in questo, più che in altri sport, lo può il basket Che diventa in questo caso Baskin, il basket inclusivo Cosa rappresenta una forma di aggregazione come questa, di sport? Allora, rappresenta oltre a una forma sportiva Perché l'inclusione del diversamente abile è tuttora una grossa difficoltà E rappresenta un'orchestra Rappresenta un luogo dove ognuno ha una propria responsabilità, una propria indipendenza E rappresenta una grande amicizia I progressi, sotto gli occhi di tu? Allora, è l'obiettivo più importante Dicevo, a parte l'aggregazione, l'obiettivo è un'evoluzione fisica e emozionale E questa c'è stata veramente presente in tantissimi ragazzi Abbiamo delle evoluzioni fantastiche Questo fine settimana c'è un bel evento di cui Fano e la squadra fanese saranno protagonisti Al Palazzo Allende, domenica 10 alle ore 9 giochiamo noi, quindi il basking Fano contro i Bis Poi alle 10.30 giocherà Urbani contro Fermignano E al Palazzetto dello Sport che viene concesso dal CSI che noi ringraziamo L'invito alla cittadinanza e a tutti gli appassionati sportivi è di venirlo a vedere perché è un vero spettacolo Cioè è gara vera, diciamo Ecco, è proprio questo Allora io invito tutti, tutta la cittadinanza a venire a vedere per un motivo Io vedo ancora molto pietismo riguardo a delle condizioni di diversamente abile Vorrei invece invitare la gente a capire che non è uno sport È uno sport vero, uno sport fatto da ragazzi veri che giocano insieme portando avanti degli obiettivi Io lo dico, un po' più alti dello sport classico Ebbene, se potete, domenica 10 andatele di applaudire a questi atleti Perché vi regaleranno sicuramente forti emozioni anche dal punto di vista dell'animo Allora, prestazioni sanitarie che abbiamo a tono di notizia e diagnostiche di eccellenza Senza incorrere in tempi di attesa Troppo lunghi e prezzi calmirati Il tutto grazie alla convenzione sottoscritta tra Coldiretti Pesero Urbino Il patronato Empaca e il centro salute articolo 32 Un poliambulatorio specialistico attivo da anni a Monte Felcino I soci Coldiretti e i cittadini potranno prenotare esami diagnostici e visite specialistiche Direttamente tramite l'Epaca L'iniziativa che va ad ampliare la gamma dei servizi Epaca E che nasce per soddisfare l'esigenza di vere offerte sanitarie Ma naturalmente queste veloci e professionali Viceversa, tutti i clienti del centro medico potranno avvalersi dei servizi di patronato Epaca Presente con un apposito recapito ogni martedì pomeriggio Una sinergia positiva per l'erogazione di servizi di eccellenza sul territorio A tutto vantaggio dei cittadini Particolarmente rilevante in un momento in cui il pubblico manifesta forti difficoltà nel garantire servizi sanitari nei piccoli centri delle zone interne Bene, adesso è stata presentata questa mattina l'opera Turandot di Giacomo Puccini che andrà a inaugurare la stagione teatrale della Fondazione Rete Lirica delle Marche Per noi a seguire la conferenza c'era Francesco Salvago Dopo i successi di pubblico e i risultati gestionali positivi del primo anno di attività la Fondazione Rete Lirica delle Marche alza il sipario sulla nuova stagione con la Turandot di Giacomo Puccini nella versione incompiuta del 1926 così come l'eseguì alla prima la scala Arturo Toscanini Sul podio dell'orchestra filarmonica marchigiana salirà il direttore Pietro Rizzo mentre alla guida del coro del teatro ventidio basso di Ascoli Piceno ci sarà Giovanni Farina Dopo la prima tappa fermo lo spettacolo arriva al teatro della Fortuna di Fano sabato 16 novembre alle ore 20 e 30 Turandot apre questa stagione veramente bella e importante Mettiamo insieme le orchestre, mettiamo insieme tutti i tecnici, le maestranze questo è una cosa importante puntiamo su grandi interpreti ma anche su tutti i giovani che ormai sanno che la Fondazione Lirica delle Marche è un palcoscenico aperto proprio per provare queste emozioni sentire dentro un teatro che è già bello perché il teatro nostro è veramente molto bello queste note, questa musica che appassioneranno sicuramente tutti Lo spettacolo della durata di 100 minuti non intervallati sarà interpretato dal soprano Tiziana Caruso la regia, le scene, i costumi e le luci sono firmate da Pierluigi Pizzi una delle personalità artistiche più importanti del teatro marchigiano il quale concentrerà la massima attenzione sul potere trascinante della musica Il sottolineo che questa che il pubblico vedrà è la Turandot che sottolinea l'incompiutezza dell'opera perché l'opera verrà eseguita senza il finale che Puccini non ha scritto e l'opera verrà eseguita così come fu eseguita la prima volta da Toscanina alla Scala La stagione teatrale apre anche con importanti risultati della fondazione che negli anni ha consolidato a bilancio un aumento dei contributi presentando quest'anno anche altre due opere, Carmen e l'Italiana in Algeri Direttore, la fondazione ha compiuto un traguardo molto importante in questo caso il progetto sperimentato per tre anni, quest'anno si è andato sempre più a consolidare Sì, l'idea è partita nel 2014, l'esperimento è andato totalmente bene che per il triennio invece 2018-2020 si è deciso di dar vita a un soggetto unico appunto la fondazione Rete Lirica delle Marche e questo sta già dando i suoi frutti perché ci troviamo già di fronte a un cartellone invernale regionale ulteriormente potenziato Ed ora una buona notizia per tutti i cittadini di Mondolfo perché sabato 16 novembre si terrà l'inaugurazione del nuovo campo sportivo sito in via fermi alla presenza del sindaco e delle autorità civili e militari locali un momento importante di festa per tutta la comunità di Mondolfo che avrà così a disposizione un luogo di svago e divertimento che era anche atteso da diverso tempo la cerimonia ufficiale con il taglio del nastro avverrà alle ore 10 E sabato 9 novembre, perso la Memoteca Montanari di Fano alle ore 17.30 verrà presentata Usi e Costumi una rassegna di poesia dialettale delle Marche verranno presentate letture teatrali di attori dialettali di diverse città marchigiane in raffronto con il romanesco e il napoletano con un sottofondo musicale l'ingresso è libero ed ora concludiamo il nostro telegiornale con le immagini che ci arrivano da Cartoceto perché ieri sera al Teatro del Trionfro si è svolto il concerto del corpo bandistico di Cartoceto dove ha visto nonostante la pioggia tanti intervenuti per trascorrere una serata in compagnia della buona musica durante l'esibizione sono stati eseguiti brani classici famosi e colonne sonore di film e per concludere naturalmente l'inno di Mameli il concerto rientra tra gli eventi di Cartoceto Dop il Festival che proseguirà anche nella giornata di domenica 10 novembre bene ed ora vi ricordo che lunedì lunedì sera a seguire il telegiornale come ogni lunedì andrà in onda primo cittadino questa volta sarà ospite ritorna anzi direi questa volta ospite nei nostri studi in compagnia di Simona Zonghetti il sindaco della città di Fano Massimo Seri naturalmente come sempre come ogni volta avete a disposizione per intervenire in diretta con domande e quesiti al 0721 861433 per fare una telefonata oppure se volete anche semplicemente mandare un sms o un whatsapp potete fare il 338 4968 250 bene siamo arrivati in fondo adesso vi dico che cosa ci sarà dopo di noi naturalmente l'attesissimo appuntamento con che tempo farà e le previsioni meteo del colonnello Flavio Vento previsioni che tra l'altro sono vere io lo ricordo sempre perché può sembrare una gag ma in realtà le previsioni sono vere quello che viene dopo invece è pura gag ma le previsioni sono vere poi ci sarà una puntata di Guarda Chi C'è ed infine uno speciale dedicato all'Assemblea Nazionale della CNA che si è tenuta ad Ancona bene questo è tutto grazie per essere stati in nostra compagnia l'informazione torna domani mattina puntualmente alle 7 con occhio ai giornali grazie e buon proseguimento di serata con i nostri programmi arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti